Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Questa è una bellissima vista da qui, quindi venite a qui. Ciao ragazzi, come sei? Noi! Non sei schifo! Questo è il posto dove prendiamo il sole, nel vero. E anche oggi è l'interno, ma puoi prendere il sole. Ma non puoi imparare nel pool perché è molto freddo. Mi piace il posto che è questa casa perché hai due punti di vista diversi. Uno, puoi vedere il mare. Ma la migliore vista per me è questa. Questa è una vista incredibile. Hai solo chilometri e chilometri senza una casa. Perché ti ha dato molta pazza per il tuo stato di mente. Quindi, volevo fare qualche tipo di discoteca. Per fare qualche parte privata. Non partei tanto perché sono un buon ragazzo. Ma a volte, quando vengo alcuni rai, faccio qualche parte. Ciao ragazzi, daguerrò vi la nostra casa dentro! Venci! È un buon bar quello che ho, dove ho salvato qualche vino. Unugh! e a volte metto il jamon, come spagnolo, che è molto bello. Questa è la sala di livello. Qui abbiamo una grande tavola nero, per aver la cena. E qui è dove vediamo la televisione. Siamo qui durante la notte, con la luce un po' sotto. E qui vediamo la televisione. Tutta la casa è controllata da alcuni ipads. Ora vi mostro la tavola. È una grande tavola, con dei monstri. Sempre ho messo il mio monstri. Ora andiamo alla seconda tavola della casa. Questa è la zona principale della seconda tavola. Qui volevo mettere i miei due bicicletti dove vengono la città di MotoGP. Questa è la prima volta, nel 2010. L'altra è l'ultimo anno, nel 2012. Quindi ho ricordato molto buoni di queste bicicletti. Qui vediamo due ruote. Qui vediamo la scena. 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 E questo è anche uno dei miei miei piatti favoriti. La casa. Il Trophy MotoGP. È molto bello. perché ho ricevuto tutti i campionati mondiali. D'un primo anno, nel 1949. A l'ultimo anno. Che sono io. e io. Ora vi mostro la zona di giocatore. Questa è il villaro. Questa è il villaro per giocare. Questa è la zona di giocatore. Questa è la zona di giocatore. Ma non ci stiamo giocando. Non ci sono dei pieti. Ci sono solo preparati per il futuro. Mi piace questo cinema. Perché quando vuoi, puoi cercare tutte le finestre. e è tutto scuro. Ma quando non vuoi, puoi cercare. Puoi cercare. E puoi avere questa bellissima vista del pool. Qui vediamo. Qui vediamo la mia scena. La più grande ruota. È quella che ho usato. Qui abbiamo il cuore. Questo è un piatto speciale. E abbiamo messo le luci dentro del piatto. E questo è dove la magia succede. Quando si dice questo in America. Puoi mettere tutto. E puoi avere queste bellissime vizie. È una buona risposta. Per me, per me, è la migliore parte del piatto. 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 Quando ho fatto questo terrasse, non c'erano giacuzzi. Ma ho detto ai ingegneri che hai bisogno di fare giacuzzi qui. Per me, è la migliore parte del piatto. 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 E' la migliore parte del piatto. Qui abbiamo il piatto. Un piatto. Mi piace perché ti fa molti reflexi. E anche, ti ti piace molto spaziano con gli amici. Una cosa che ho chiesto a me, è la parte del piatto. Perché non ci sono così diverse. Quindi quando ho finito la mia trainazione, e sto molto svegliato, and I'm going this way to take a shower, so this is the locked room to make change, to take some towers and get ready for the party. Here close to the gym but with some crystals to separate the gym to the pool because without the crystal creates a lot of humidity. 20 meters pool to make some swimming and training here in the pool. From this point of view you can also see the pool from the outside. This view, you can see the pool I showed you at the beginning of the video. So let's check out the garage. And you got this R1, 1000cc. Also you have this 450 motocross bike. All these kind of Yamaha bikes, small ones to make some deep track. Also the more popular Yamaha bike is the T-Max from last year. And also some Enduro bikes. So we got into the car area. I got this Mercedes SLS from 2011. I love this car because it's very smart. It's very elegant. And especially I love the way the doors are open. I really love to make like this and open this way like a bird. It's very beautiful. So it has been a pleasure for me to show you my house. But now it's time for you to get out of here. I need to get ready for the next race. See you guys. Take care.